Cari sportivi, brutte notizie per i tifosi del Napoli. La corte sportiva d'appello della Federcalcio ha respinto il ricorso del Napoli contro lo 0-3 e il punto di penalizzazione per non aver giocato il match contro la Juventus del 4 ottobre. Clamorosa decisione di giudice Piero Sandulli che nonostante le positive sensazioni emerse dalle dichiarazioni dell'avvocato Grazzani nelle scorse ore ha respinto il ricorso presentato dal Napoli in merito alla sconfitta a tavolino contro la Juve ed il susseguente punto di penalizzazione. Ecco in esclusiva le immagini del processo sportivo. Apriamo la discussione per la sentenza d'appello al ricorso della società sportiva Calcio Napoli per la sconfitta a tavolino per 3-0 ed un punto di penalizzazione in classifica dopo la mancata disputa della gara tra Juventus e il Napoli. La parola alla difesa della società sportiva Calcio Napoli. Signor giudice vi metto a conoscenza integralmente di quello che mi è stato riferito di dirvi dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, atto a spiegare motivazioni e ragioni per cui il Napoli fu impossibilitato a presentarsi a Torino per disputare la gara con la Juventus. Se il giudice mi autorizza inizierei a dire prego prego avvocato ci faccia sentire queste dichiarazioni del presidente del Napoli ma vi avviso prima qui la situazione si mette male per voi è difficile dar torto a sua eccellenza Andrea Agnelli voi capite vero? Comunque vada pure avanti avvocato dica dica. Eccellentissimo giudice Piero Sandulli ogni anno in campionato c'è l'usanza per il Napoli di giocare con la Juve ogni anno sa da fa che sta partita ogni anno sa da fa che sta trasferta e anche quest'anno come al solito ci stavamo organizzando per andarcela a giocare anch'io ci stavo andando buttando un occhio su qualche positivo lei mi segue signor giudice avvocato ma ma sembra la poesia a livella di totò ma vada avanti continui pure ci stavamo organizzando per partire per Torino per andarcela a giocare e anch'io ci stavo andando buttando un occhio su qualche positivo qui si è infettato Zierischi centrocampista di valore e prospettiva acquistato il 4 agosto del 2016 insieme a lui fu positivo anche Elmas anch'esso centrocampista di valore acquistato il 10 luglio del 2019 sen den sti positivi l'asl s'allarmaia e dicetta ue addoiato voi non potete partire avvocato scusate se vi interrompo ma quando dura questa lagna questa non è una dichiarazione ma è un papiello scusate ma ho appena iniziato signor giudice la prego mi facci parlare mi faccia dire e va bene dica dica signor giudice ho fatto e chiesto state mal sentì si avvicinava a data la partita e io tomo tomo dice de laurentis insieme a squadra mi preparavo per partire mi chiama l'asl e mi dice signor de laurentis dove credete di andare voi ci avete in squadra due positivi fa dopo quindi che vi mettete in quarantena nei vostri alberghi con la vostra gente avvisate agnelli e rimandate la partita e allora avvocato agnelli cosa rispose il presidente juentino rispose a de laurentis esattamente così da te vorrei saper caro aurelio con quale ardire e come hai osato di chiedere a me di rimandare la partita se non ti presenti tanto meglio tanto con il mio potere bingo a tavolino lo sai che non puoi paragonarti a me che sono un blasonato la juve grande e va sì rispettata ma voi perdeste il senso e la misura la gara andava sì rinviata ma solo per nostra convenienza va bene avvocato abbiamo già discusso e capito di questo ma il presidente del napoli non ha nient'altro da dire a questo giudice certo signor giudice ecco infatti le sue ultime parole signor giudice non è colpa mia io non mi avessi fatto questo d'orto è stata l'asola a fare questa passaria io che potevo fare con due positive se non mi formava l'asola io fossi partito pegliavo l'aereo come sembra e fossi giuda a torino e la squadra mia l'avessi rotto l'os abbiamo capito avvocato ma secondo me il napoli intenzionalmente non ha voluto partire perché diciamoci la verità aveva paura della juve senza zielischi ed elmas aveva paura di perdere la partita il napoli ha premeditato di non disputarla la gara ma voi va paura positiva premeditazione voi volete mettere in capo rendere il cervello che è stata malata in fantasia un napoli lo sapete che è in un squadrone e se l'albietro e i guardalini fossero uomini tra senni in gamba si sono fatto conto che non ne è persa tutto la juve sarà forte ma con malati voto quando un napoli l'ha battuto pure che sta voto con quest'allenatore pirla un napoli teneva le carte in regola per rompere il mazzo signor giudice non ve l'avete fatta ancora chiesto conto perciò caro giudice state ma stenti non faccio ora stiva faccio sportiva rimandata la partita che va un porto sti pagliacciata e fa sulla juve noi siamo seria apparteniamo a napoli sono spiacente avvocato ma la regola è chiara non ha ragione chi ha ragione ma c'ha ragione chi ha il potere i soldi e il blasone quindi confermo che a tavolino vince ancora lo juventino e per un bonifico di due milioni confermo anche il punto di penalizzazione l'udienza è chiusa questo video è una produzione di napoli è sempre bella pagina facebook canale youtube il video non è scaricabile non è pubblicabile non è pubblicabile ciao 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 ciao